bella a tutti ragazzi bentornati sul canale di mds dopo un'assenza data dalla mia purtroppo influenza e abbiamo perso tante cose ragazzi l'ultima volta c'eravamo visti con l'evento e sono successe tante cose prima di tutto è uscito il signor igor di mac un ninja di mac andandolo a vedere velocemente ha il classico perk shinobi il fumogeno balzo della mantide ma quello ce l'hanno tutti e poi incominciano le cose interessanti a livello 5 prende riduce di 25 secondi il tempo di recupero di fumogeno all'otto tasche profonde riduce di 15 il costo di energia di fumogeno vi ricordo che fumogeno costa 25 energia ea un recupero di 20 secondi quindi già il recupero tempo di recupero 20 secondi e nella cintura degli attrezzi dice 25 secondi ridotti c'è un errore di traduzione ragazzi non vi preoccupate tasche profonde leva il costo di energia 15 costa di solito 25 quindi lo andiamo a pagare 10 e fumogeno agli shuriken alla tecnica d'ombra al 15 prende via col fumo dopo aver usato un fumogeno incrementa del 50 per cento la velocità di movimento per 15 secondi ragazzi è una scheggia quest'arnese gioco di prestigio il ninja sfrutta l'effetto disorientante di fumogeno per impiegare tecnica d'ombra praticamente voi usate fumogeno e andate in tecnica d'ombra allo squarcio del drago al 25 prende di mac tecnica d'ombra ricarica continuamente lo scudo del ninja al 20 per cento della velocità standard è più veloce e al 30 prende miccia super lunga incrementa di 5 secondi la durata della nube persistente generata da fumogeno che tipo di eroe è è un ninja fatto per stare in combattimento ravvicinato ragazzi molto ravvicinato quindi è un ninja che entra in combattimento con lo squarcio del drago saltando addosso alle persone tirando degli shuriken uccidendo qualcuno e se nel caso si dovesse trovare senza la tecnica d'ombra quindi il fatto di fare più danni può attirare il fumogeno e puff e di nuovo in tecnica d'ombra allo scudo che si rigenera più velocemente e saluta il secchio come va giocato questo ninja a mio avviso tutto dipende dall'arma che gli date in mano gli date un martello andate a mettere si dell'eroe che vi viene dato in regalo il costruttore mitico che vi viene dato in regalo in modo da fargli fare più danno o volete usare le spade c'è ken spadaccino che aumenta le spade o qualsiasi altro che aumenti le spade la potenza delle spade come invece slot secondario io ho optato per kyle megabase perché è vero che in tecnica d'ombra grazie di mac rigeneriamo costantemente lo scudo al 20 per cento ma questo non significa che il nostro scudo sia perennemente attivo e il 20 per cento della velocità significa che sale molto lentamente quindi o sciottiamo quindi o uccidiamo sul colpo i nemici che abbiamo davanti oppure rischiamo di seriamente andare a subire danno dopo danno una quantità di danni tale che ci porta alla morte con kyle megabase tirando il fumogeno ricarichiamo al massimo lo scudo quindi siamo sì in mezzo al combattimento ma in tecnica d'ombra con lo scudo pieno e che ci si rigenera continuamente il fumogeno l'abbiamo pagato 10 su un pool di 100 di energia con la rigenerazione normale come vedete non vi ho detto mettete il bonus caffeina pura dato da edge sentinella come primo slot perché effettivamente non fai tanto di abilità perché gli shuriken non sono così decisivi lo squarcio del drago continua a essere letale per i bambini e gli abietti normali ma i ciccioni gli fai pochissimo e ancora meno fai ai mostri della nebbia quindi non è esattamente la sua peculiarità la sua peculiarità è avere questo scudo continuamente e essere praticamente in tecnica d'ombra gratis e sempre quindi andiamo a tirare le conclusioni è un eroe da prendere beh indubbiamente è un eroe unico appena uscito chissà se e quando lo rivedremo è un eroe forte è un eroe che può essere divertente se vi piace stare nel combattimento ravvicinato e quando siete a corto di risorse quindi poca vita niente scudo niente energia per usare il fumogeno ma siete o comunque pochissima energia giusto per il fumogeno tirate il fumogeno scappate via al 50 per cento di velocità in più vi allontanate con un buon fucile da media lunga distanza aspettate di ricaricarvi lo scudo e l'energia una volta che questo è fatto potete tornare in combattimento è competitivo no mi dispiace è competitivo non è competitivo anche a livello di bonus da un supporto che riduce del 20 per cento ritardo della rigenerazione dello scudo questo potrebbe essere forte messo sotto un altro di mac in modo che lo scudo sia in combattimento sia fuori dal combattimento si rigenera si rigenera più velocemente si rigenera prima ma non si usa ragazzi mi dispiace questo era igor di mac è uscita un'altra cosa nel nel nello store sapete di cosa sto parlando vero sto parlando di calamity com'è calamity e ragazzi ve la faccio vedere condividete con me la bellezza di questa signorina questa è calamity signori calamity calamity è un soldato soldato manolesta infatti calamity manolesta che ha le fattiche avanzate danni delle armi a distanza incrementati del 10 per cento salute incrementata del 10 per cento possiede destra e mancino le due pistole pum 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 fa male al 2 prende colpi debilitanti al 5 doppia debilitazione quindi destra e mancino le due pistole ora fanno colpi debilitanti in un attimo al livello 8 incrementa del 35 per cento la velocità di ricarica dell'arma se il caricatore a vuoto è fortissimo è fortissimo sia sulle armi con poco caricatore sia con le armi con un buon caricatore alla seconda stella guadagna grido di guerra quindi al livello 10 nel momento in cui ve la fatta evolvere prende il grido di guerra che è già buono al 12 prende sei colpi i primi sei colpi dei caricatori per pistola sentite bene per pistola infliggono il 12 per cento di danni in più e il 24 di impatto in più è tantissimo su una pistola al 15 prende dov'è letti eliminare i nemici con le pistole riduce il tempo di destra e mancino di un secondo cioè già destra e mancino a un recupero di cento secondi facciamo fuori cento abbietti nei nei dieci secondi che abbiamo a disposizione cento abbietti magari sono tanti ma spara contando che due pistole che sparano sei volte al secondo quindi abbiamo un totale di 60 colpi 60 colpi possono essere 60 morti 60 morti sta significare che il nostro recupolo è già 40 secondi cioè ogni 40 secondi rischiamo di avere destra e mancino a disposizione al 18 prendiamo dolore persistente l'effetto di vulnerabilità imposto da colpi debilitanti può sommarsi fino a cinque volte come tanti altri soldati naturalmente quando lo evolveremo a tre stelle prende la terza abilità che no non sono le granate è allo sbaraglio è il gatling signori questa signorina possiede sia le pistole sia il gatling il grido di guerra vi ricordate cosa fa il grido di guerra vero quindi al 25 prende asso sei colpi aumenta il danno di sei colpi di 12 per cento e l'impatto di 24 12 più 12 fra 24 24 più 24 fa 48 quindi abbiamo un 24 per cento di danno in più nei primi sei colpi del caricatore delle pistole e un 48 per cento di impatto in più cioè quasi metà impatto in più sulle pistole può essere buono pensate un aquila calva che ha solo sette colpi di quei sette colpi uno è minchione gli altri sono god perché l'aquila calva è già una buona pistola che poi ci aggiungi questa signorina al 30 invece troviamo lotta o fuggi incrementa di 10 per cento i danni inflitti da grido di guerra e di 10 per cento la velocità di movimento quindi 10 per cento in più su un grido di guerra che incrementa del 45 per cento i danni delle armi del 30 per cento la velocità di attacco delle armi a distanza del 20 per cento la velocità di attacco delle armi da mischia ed ora 10 secondi con lotto fuggi abbiamo un 45 per cento di danni delle armi a mischia distanza un anche la velocità no solo i danni e la velocità di movimento quindi abbiamo un 10 per cento di velocità di movimento unito al 30 per cento di attacco delle armi a distanza e del 20 per cento della velocità d'attacco delle armi a mischia voi mi dite cazzo con le pistole da basso caricatore queste letale no signori queste letale con qualsiasi pistola gli date in mano io la sto provando con la whisper con ratatat con la rivolta fondatore e fidatevi grido di guerra e incominci a spammare proprio a questa velocità sulla rivolta fondatore è un delirio è un delirio se siete pure precisi che ogni colpa non è di shot vedete che la gente si dissolve un pochino come una nuvola di fumo al passaggio di un di un ventilatore così quanto può durare una nuvola di fuori niente inoltre notizie lette quella sul web dicono che per la prima volta hanno rotto l'alternanza eroe arma la epic per un semplice motivo la pistola se colpi che attualmente disponibile in battaglia reale che ci doveva arrivare proprio per in vista di questa signorina si è rivelato un po tanto broken un po tanto rotta e soprattutto in mano a questa signorina tanto da uccidere i boss vulnerabili alle trappole in sei colpi da quello che dicono quindi l'hanno rimandata per riarrangiarla meglio veramente con quella pistola e questa signorina shottavi i boss quindi quelli tutti colorati che vi rompono i marboni verso la fine delle missioni li shottavi li uccidevi tu facevi i sei colpi lo sapete come funziona la pistola del battle royal qua più o meno tutti l'abbiamo visto il video di power dove gridava è rotta è rotta è rotta lo sappiamo tutti grande paverone io adoro quel ragazzo e quindi se questa signorina qua con quella sei colpi uccideva quelli vulnerabili alle trappole che non gli fa niente neanche col ragazzi io ci ho provato con un notturno un notturno uno scava fosse lo schioppo magari tanti di voi non sanno cosa significa sparare al mio livello su un boss di livello 54 vulnerabile alle trappole con un'arma 130 full perk competitiva con head hunter e il setup sugli ar tutti headshot e non fargli niente neanche il 10 per cento con un caricatore questa lì sciottava queste popopopo morti what è un fake ragazzi è un fake sicuramente era un fake non non penso che nessun alfa tester o beta tester della epic possa aver rivelato queste informazioni e sicuramente stiamo parlando di una versione di gioco non definitiva quindi se arriva vediamo come arriva se non arriva e non è arrivata ragazzi ne abbiamo tante pistole potenti io ho una quella calva al 130 per la signorina lasciate un like se il video vi è piaciuto se volete iscrivetevi se non ne avete voglia non volete non lo fate non mi interessa l'importante che impariate a giocare dal vostro alla stella è tutta e ci vediamo alla prossima bella